Allora, il Trescone. Se prima vi si è cantato la Ninna Nanna e magari vi siete un attimino adagiati, adesso ci si sveglia. Questo sarebbe il momento del tasto alcolico un po' alto, però bisognerebbe... Il tasto alcolico è il basso. Bisognerebbe... Averci il vino. Averci il vino. Ci sa, ci sa. Ah, allora siamo a posto, gente. Allora portalo. Svegliatevi dal sonno, briaoni, che è giunta l'è per noi la gran cuccagna. S'andà a mangiare del pollo e dei piccioni e ber del vino che viene dalla campagna. E la menia ori, c'è in balola, frullana la suonerà. E la menia ori, c'è in balola, frullana la suonerà. Addio Carola, Carola, addio. Però io a questo punto, come quando si fa addio Carola? Bisogna fare un gesto così, noi toscani siamo molto, no? Di fare gesti, così, addio Carola. Eh, me lo dovete fa' perché sennò... Via. Dai una manina, via, una manina. Ok? Quando si fa addio Carola, al prossimo così con la mano. Vai, d'accordo. Sarà dei nostri anche Beppin del Noce, e detto gli occhi e porti l'organino. E visto che n'ha una sette voce, lo fa' cantà che sembra un carderino. Gli è un tremodo e un accidente, tutti i versi li saffa. Gli è un tremodo e un accidente, tutti i versi li saffa. Addio Carola, Carola, addio. Oh, bravi. Bravi. Avevo anche invitato il suo priore, perché anche lui venisse e ha ritrovato. Ma gli ha mandato a dippe il servitore, che l'è nel letto tutto ammalazzato. Gli è in cucina, oh là, su serva, aiuta la riscia qua. Gli è in cucina, oh là, su serva, aiuta la riscia qua. Addio Carola, Carola, addio. Addio Carola, Carola, addio. Bravissimi!